Mentre parlavate mi venivano in mente storie totalmente diverse, storie anche se volete profondamente impostate su tempi e stagioni totalmente diverse. Quando Concetta raccontava la sua storia, la storia della sua famiglia, che poi mi ha raccontato meglio a tavola, mi ha raccontato che suo papà, io appartengo a quella parte di italiani che dicono babbo, però in via eccezionale posso dire papà, giusto? Perché tra di voi probabilmente è più... per chi viene dalla Sicilia babbo non è una bella parola, quindi dirò suo papà soltanto per rispetto alla parte siciliana di noi. Dicevo, quando Concetta mi ha raccontato, mi ha raccontato che suo papà è arrivato qui nel 1953 e sua mamma, che era fidanzata con lui e stava nello stesso paese, a un certo punto gli ha scritto una lettera dicendo io arrivo il giorno X, spero di trovarti al porto. E mi vengono i brividi a pensare a quante storie oggi noi possiamo raccontare di emigrazione, di emigrazione naturalmente non soltanto in Australia, di emigrazione difficile, dura, di emigrazione di persone che avevano perso tutto. Penso alle storie dell'emigrazione negli Stati Uniti, penso alla storia dell'emigrazione in Sud America, penso alla storia dell'emigrazione difficile dei primi anni del Novecento, quando intere comunità si trasferivano. Penso all'emigrazione in Europa, in Belgio, nelle miniere, penso all'emigrazione in Australia, un'emigrazione che non sempre era un'emigrazione di difficoltà, ma nella maggior parte dei casi era un'emigrazione di persone che coraggiose, perché ci voleva coraggio per lasciare quello che si lasciava, sceglievano di rischiare il tutto per tutto e magari si affidavano a una lettera. Oggi siamo nel tempo della interconnessione, io ho due telefonini come molti di voi, siamo un pianeta in cui ci sono 7,2 miliardi di SIM, ci sono più SIM, più telefonini che non esseri umani, ho scoperto che c'è la stessa proporzione tra i canguri e gli australiani, perché sono 50 milioni contro… è così, è la stessa cosa, ci sono più SIM che esseri umani. Eppure noi apparteniamo a una generazione, a delle generazioni che ancora hanno nella propria carne, nella propria storia quella esperienza lì. Era una lettera assegnare un destino di incontro o meno, magari due persone che nascevano nello stesso paese. E immaginate quanto deve essere importante, quanto doveva essere importante per chi lasciava tutto e arrivava qui e poi piano piano iniziava a fare storie di successo, in alcuni casi in altri meno di successo, magari di fallimento, perché poi se c'è una grande lezione che viene dalla cultura anglosassone che questo paese ha preso è che si può fallire, ma poi si può ripartire, in Italia invece il fallimento è un marchio di infamia, si può fallire, si può provare, si può rischiare. Poi se non ci si fa ci si rimette in gioco. Però pensate a queste persone ai Natali, ai momenti di difficoltà, ai momenti di nostalgia, pensate che cosa voleva dire per loro quelle sei lettere della parola Italia. Ecco, io oggi non sono qui a rappresentare me stesso, sono qui a dirvi che il governo della Repubblica italiana innanzitutto oggi pensa ai vostri genitori, ai vostri nonni, a quelli che ci sono, a quelli che stanno male, a quelli che non ci sono più e vorrebbe tributare un omaggio non formale a quelle storie, perché se l'Italia è l'Italia, cioè quella straordinaria, incredibile storia di contraddizioni e bellezza che caratterizza il nostro paese, chi ha lasciato l'Italia in quegli anni per andare a cercare ricchezza o nuove sfide altrove non era un fuggiasco o un fuggitivo, era un italiano due volte che aveva nel cuore la passione e il desiderio profondo di voler bene al nostro paese, alla nostra comunità. Partiamo ricordando loro in questo primo momento in Australia, partiamo ricordando i tanti di i vostri genitori che vi portavano a giocare a bocce, che vi facevano esultare per un gol magari scoperto qualche giorno dopo o qualche ora dopo, perché non c'erano gli strumenti di comunicazione di oggi e c'è naturalmente il senso della bellezza, della sfida, della curiosità, del coraggio, dell'innovazione, del mettersi in gioco. Questa è l'Italia. Ma l'Italia è anche l'elenco di persone che abbiamo sentito prima, persone che sono arrivate in Australia appena qualche anno fa, che hanno scelto di inseguire una sfida didattica, una sfida universitaria, un'occasione di carriera, una opportunità. Persone che semplicemente sono attratte dalla magia di questo paese così meraviglioso, che definire paese è dire poco, essendo un continente, essendo grandissimo e bellissimo, essendo una terra che tiene insieme, veniva ricordato, l'efficienza e la qualità della vita. Insomma ci sono tante storie diverse. Allora che cosa vi devo dire io? Cosa vi vengo a raccontare? Potrei raccontarvi tante questioni. Potrei dirvi che siamo qui perché oggi l'Australia ha gestito benissimo il vostro paese, perché anche l'Australia, il vostro paese, ha gestito benissimo un G20, politico, cioè l'evento più importante dei capi di Stato e di Governo. Lo ha gestito bene per tanti motivi, lo ha gestito bene a Brisbane dal punto di vista organizzativo, ma lo ha gestito bene nell'agenda dei contenuti. Potrei adesso annoiarvi con uno di quei discorsi tipici dei politici in cui vi parlo dell'importanza della crescita e non soltanto dei consueti schemi economici. In realtà non sono cose banali, specie per noi. Noi in Italia stiamo attraversando un momento, come sapete, di difficoltà. Dal 2008 al 2014 abbiamo perso un milione di posti di lavoro e anche se negli ultimi sei mesi la curva ha riniziato a girare perché da aprile a ottobre abbiamo recuperato 153 mila posti di lavoro, voi capite che per tornare a un milione la strada è ancora lunga. E quindi parlare di crescita significa parlare di posti di lavoro per i nostri figli, significa parlare di occasioni di lavoro non soltanto per i nostri figli, per i nostri fratelli più grandi o genitori, perché quando in Italia perdi il lavoro a 50, 52, 54 anni è un problema rimettersi in gioco se il sistema non ti aiuta a farlo. Quindi parlare di crescita in Australia è stato importante, potrei raccontarvi questo, potrei farvi una cronaca minuto per minuto di come è andato il G20 e di quanto sia stato importante il ruolo dell'Australia nel organizzarlo, però lo leggete sui giornali e forse vi annoierei. Potrei allora parlarvi di altro, potrei dirvi di quanto è importante investire sull'interscambio tra i nostri paesi. L'ambasciatore mi ricordava questa mattina, siamo stati a Brisbane a inaugurare un, non a inaugurare, diciamo più correttamente, l'inaugurazione sarà tra qualche settimana, ma a verificare un tunnel molto importante, 4,6 chilometri che divide, o meglio che unisce due pezzi della città che riduce il traffico, che consente un elemento di qualità della vita decisamente migliore in quel pezzo di quartiere, che ha vinto il progetto come tunnel migliore nel 2012 a livello mondiale, fatto da un'azienda italiana, la Ghella, e credo che sia una cosa molto, molto positiva, che si possa continuare a valorizzare le occasioni di investimento. Abbiamo visto quest'oggi la Mermec che è nella stazione di Sidere, fa dei lavori di altissima tecnologia, qualità, domani vedremo altre aziende, andremo a salutare altre aziende, perché è importante poter cercare di incentivare l'interscambio, così come sarà importante nella giornata di domani coinvolgere quanto più possibile aziende australiane a investire nel nostro paese, ma non si investe nel nostro paese, voi lo sapete se non si cambia il nostro paese. E allora anziché parlarvi dell'interscambio commerciale pensavo potrei farvi un bel racconto di come stiamo facendo le riforme, altra occasione per addormentarsi alla terza riforma, ma è così, ci sono nel cuore di ciascuno di noi due elementi che vanno tenuti insieme. Da un lato l'assoluta certezza che noi vogliamo bene all'Italia, ma dall'altro l'assoluta certezza che continuare a raccontarsi la direzione non basta niente se non cambi profondamente il nostro paese, non puoi continuare a dire l'Italia è un paese bellissimo, però la pubblica amministrazione non funziona, però la giustizia civile è più lenta che le altre parti, però il sistema elettorale è complicato per cui non si sa mai chi ha vinto e chi ha perso, fateci caso, fateci caso, le ultime elezioni, io sono il frutto di un accordo parlamentare, non sono il frutto di un risultato elettorale netto, le ultime elezioni sono state fatte in Italia, le avrete seguite, quelle politiche, quelle europee invece sono andate bene, ma quelle politiche nel 2013, qui sia Marco che Francesco le conoscono bene perché sono i vostri rappresentanti, avendo vinto questo piccolo collegio Africa, Asia, Oceania, questo collegiuzzo di tre gatti che nella divisione dei deputati del senatore all'estero è molto banale, sono state fatte negli stessi giorni in cui la chiesa cattolica eleggeva il Papa, perché Papa Benedetto si era dimesso, ora i corrispondenti stranieri avevano due troop da Roma, una troop ci ha messo un minuto a capire chi aveva vinto, era però dalla parte di là del Tevere, da noi si sono presentati in quattro tutti a dire beh noi non è che abbiamo vinto ma siamo arrivati prima, però ha fatto un buon risultato e non si è capito chi ha vinto, se lo stesso meccanismo elettorale fosse stato fatto in città del Vaticano dalla terrazza di San Pietro sarebbero usciti in quattro, tutti e quattro mesi di bianco e dirò vinto io, vinto io, no, allora dobbiamo cambiare il sistema elettorale, potrei raccontarvi dell'importanza di rendere più semplice il sistema fiscale, anche perché rendere più difficile in Italia non è la cosa più semplice e facile, rendere più difficile il sistema italiano dal punto di vista fiscale è impossibile, tutte cose che il governo sta facendo perché sono giuste, perché si può voler bene all'Italia sapendo che bisogna cambiarla, anzi l'unico modo per cui l'Italia torni ad essere se stessa, l'unico modo per cui l'Italia può essere se stessa è esattamente quello di cambiare, perché è come una bicicletta che se tu stai fermo cadi, l'unico modo per stare in equilibrio è pedalare con convinzione, con decisione, ma anche questa parte delle riforme, compresa lo dico, la madre di tutte le riforme che è la scuola, perché avete ragione, l'ha detto qualcuno di voi, il paese, i paesi, le comunità, le città tra dieci anni non saranno come le avranno fatte i vincoli di bilancio e le slide dei tecnici, saranno come le avranno fatte gli insegnanti, le scuole, gli asili, le università, i centri di ricerca, è il capitale umano la più grande forza che noi abbiamo, bene di tutte queste riforme non vi parlerò, allora che ci parli? Potrei dirvi dell'importanza del made in Italy, che non è soltanto, l'abbiamo detto prima, cibo, non è soltanto buono cibo, tra l'altro come dire, notare che c'è anche un piccolo simbolo che ricorda una bellissima città di cui casualmente sono stato sindaco, ma che ricordo soltanto perché è gemellata con Sidene, inizia con la F, finisce con i Rens, forse la conoscevo, dicevo il made in Italy e voi lo avete dimostrato, non è soltanto quelle caratteristiche che pure ci fanno grandi nel mondo e che sono da rivalorizzare, da portare a esempio il cibo, la moda, la qualità della vita, lo stesso turismo su cui abbiamo tanti elementi da recuperare perché è stato detto che ci vedono come un posto dove andare a fare il viaggio di nozze, se non ci diamo una smossa non ci vedono più nemmeno come questo, bisogna non dare niente per scontato e sapere che nel mondo globale la competizione è forte, che nessuno di noi avrebbe immaginato 15 anni fa che Dubai sarebbe diventata una meta turistica, eppure anche questo, ovviamente non solo questo, ma insomma sono accanto ai settori tradizionali, il vero made in Italy è l'ingegneria, è l'alta tecnologia, è la qualità straordinaria delle persone che lavorano nelle nostre realtà, eppure questo made in Italy talvolta lo mettiamo un po' sotto traccia, non perché dobbiamo raccontarci che va tutto bene, abbiamo un sacco di cose da cambiare a partire dal debito pubblico, che cosa vuol dire? Che mentre i vostri connazionali che erano rimasti in Italia mettevano da parte i soldi, hanno un risparmio privato tra i più alti al mondo e però quelli che andavano in Parlamento li spendevano anche per gli altri, c'era una generazione di cittadini che ha fatto la formica e una generazione di politici che ha fatto la cicala e oggi è un tema molto complicato da gestire, però nonostante i problemi e i difetti c'è tutto lo spazio per raccontare una storia di successo, ma è finito, non vi parlerò nemmeno di questo. E allora di cosa vi parlo? Vi parlo concludendo soltanto di una cosa, che è l'elemento, il filo rosso di tutti gli interventi, che è il filo che tiene insieme le storie di tutti voi o comunque di molti di voi, degli amici, delle autorità istituzionali che ci fanno l'onore della loro presenza qui e che voglio ringraziare insieme all'ambasciatore e al console per aver organizzato questo appuntamento e per averci onorato della, naturalmente la Camera di Commercio, della propria presenza. Però il filo rosso che ci lega è un'altra cosa, è l'idea che avere nel cuore l'Italia significhi avere nel cuore il desiderio di vivere la vita in modo fatto di passione e di bellezza. E questo non è semplicemente un'opera d'arte o un paesaggio, o un grattacielo o una baia. Vivere la vita all'insegna della passione e della bellezza significa non accontentarsi mai di quella tendenza per cui le persone sono soltanto dei numeri, dei codici fiscali ammassati l'uno sopra l'altro, ma vivere la dimensione dei valori, della realtà, in fondo tornando ai vostri genitori che sono venuti qua, forse la cosa più straordinaria che hanno portato e ricevuto è stata la qualità delle relazioni umane, la qualità dei rapporti, prima ancora che un business fatto bene o fatto male. E forse se pensiamo a noi, alle nostre vite, ci vengono in mente, a voi che magari avete visitato o che vi ricordate il luogo dove siete nati o dove sono nati i vostri genitori, non vi viene in mente un particolare della casa, ma vi viene in mente la piazza del paese da cui i vostri genitori sono partiti, il luogo cioè dell'incontro, della comunità, delle persone. Ecco l'Italia è essenzialmente questo, è una esperienza di passione e di bellezza che nel corso dei secoli ha saputo scrivere pagine incredibili, impressionanti, persino immeritate forse, tanta è la grandezza che rappresentano e che oggi ha un bivio. Da un lato ci sono quelli che la vogliono trasformare in un museo, in un santino, in un ricordo del passato e dall'altro ci sono tante persone italiane di origine, italiane di passaporto, italiane di appartenenza culturale, italiane nel cuore che dicono questa bellezza sarebbe sprecata se rimanesse soltanto nel limbo dei ricordi e quindi c'è bisogno di fare una cosa bellissima e arrogante, tentare di fare meglio di quelli di prima. Voi direte ma come si fa in Italia a fare meglio di quelli di prima? E come fate voi a fare meglio dei vostri genitori che si sono rimboccati le mani che sono venuti qui rischiando tutto per tutto? Non è mica facile neanche per voi, ma fare meglio di quelli di prima, anche se non ci riusciremo, non può che essere l'obiettivo del nostro lavoro. Cercare quotidianamente di munirsi di quello spirito che non è lo spirito del piagnisteo, della lamentazione, del va tutto male, ma è lo spirito di chi si mette in gioco, è lo spirito di chi ci prova, è lo spirito, lasciatemelo dire, di un grande fiorentino perché qui in Australia, non a Sydney ma a Melbourne, si sono svolti i campionati del mondo di ciclismo qualche anno fa, lo ricorderete. C'era un grande ciclista in Italia, magari ora siete tutti per compi, ma ora anche soltanto per provenienza geografica non posso che citare il grande ginettaccio Bartali, che tutte le volte che c'era qualcosa da dire, lo diceva l'italiano, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, ve lo ricorderete. Era un modo di dire, tipico, un intercalare, uno diceva come si lamentava sempre, diceva che era tutto sbagliato, tutto da rifare, però poi prendeva la bici e salvava gli ebrei portandoli di nascosto, però poi prendeva la bici cercava di rendere il paese migliore con il suo impegno. Noi siamo così, ci lamentiamo, pensiamo che dobbiamo fare tante cose belle, diverse, però alla fine siamo quelli che sono capaci di mettere a frutto i propri talenti. E allora, e ho davvero concluso, il primo Presidente del Consiglio che visita l'Australia deve innanzitutto inchinarsi di fronte alla memoria delle donne e degli uomini, che con una nave, che con una magari valigia di cartone legata con la corda o con lo spago, hanno scelto di fare quel viaggio che sembra lungo a noi in aereo, figuriamoci a loro, in quel mare e quegli anni e quanti anni fa. Però nel porre quell'omaggio io vorrei dirvi che la memoria ha un senso soltanto se diventa progetto per il futuro. Vale per voi, è l'invito e l'augurio che vi faccio. Non vi chiedo ai ragazzi più giovani di tornare a casa, non vi chiedo di tornare in Italia. Vi dico che noi ci impegneremo per fare dell'Italia un paese attrattivo. Se voi volete venire a darci una mano e a tornare indietro sarete liberi e curiosi di farlo, ma se no noi faremo comunque un paese attrattivo per cui magari saranno dei giovani australiani a venire a vivere in Italia, noi non abbiamo paura del mondo globale. Non vengo a raccogliere e a raccontare la storia dei cervelli in fuga all'estero che devo riportare per forza in Italia. Se vi trovate bene, restate qui, porterete qui la vostra passione e la vostra identità, ma noi abbiamo bisogno di rendere il nostro paese più attrattivo rispetto a come è stato fino ad oggi. E allora la memoria ha un senso, la memoria dei vostri padri, dei vostri nonni, dei nostri padri, dei nostri nonni, ha un senso soltanto se viene irrobustita dalla speranza e lanciata nel futuro. Ecco perché io da qui, da Sidere, da una città di bellezza e di passione, voglio dirvi grazie per quello che siete, voglio dirvi in bocca al lupo per quello che farete, voglio dirvi che il governo della Repubblica, nell'essere orgoglioso di quello che avete fatto, prende su di sé l'impegno di cambiare l'Italia, perché cambiare l'Italia serve all'Italia, serve all'Europa e serve alla dignità di ciò che siamo e vi invito con il cuore in mano a non dimenticare mai ciò che siete veramente, ma sapere che per realizzare ciò che siete bisogna avere nel cuore tanta voglia di futuro, tanta voglia di passione, tanta voglia di bellezza. Viva l'Italia, viva l'Australia e grazie per la vostra straordinaria esperienza. Grazie. 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 Grazie.